Ciao amici, sono Giovanni Boninsegno, ufficio stampa di Sergio Bonelli e Vigore. In questi giorni la nostra casa editrice ha lanciato una nuova iniziativa intitolata A casa con la redazione, con cui diamo voce alle tante persone che lavorano dietro le quinte di via Bonarroti. Oggi, invece di un video, vi proponiamo invece un podcast audio. Per tutti quelli che sono dall'altra parte e che ci seguono tra lettori e curiosi, non esiste solo il mondo dei disegnatori, dei sceneggiatori e dei curatori, ma esiste anche un altro apparato molto importante, molto silenzioso, che però è altrettanto cuore nebragico della Sergio Bonelli e oggi parliamo del prodigioso team del web che manda avanti il sito sergiobonelli.editore.it Quindi, da una parte, che io vedo alla mia destra, abbiamo Davide Pertani. Pausa per l'applauso. Buongiorno a tutti. Dall'altra parte, alla mia sinistra, abbiamo l'incredibile Alberto Cassani e pausa per l'applauso. Grazie, ciao a tutti. Allora, è facile rapportarsi con la Bonelli, soprattutto per quelli che sono gli albi, la Sergio Bonelli, l'editore e i suoi personaggi, però dietro c'è questo lavoro certosino che viene portato avanti da voi. Ed è quotidiano e al minutaggio, perché il sito della Sergio Bonelli, l'editore, porta dentro di sé tutta una serie di servizi. Voi lavorate di concerto, però qualcuno di voi in un certo determinato periodo approfondisce e segue una parte e qualcuno ne segue un'altra. Io ora inizio un po' a chiedervi, ad esempio, cosa significa mettere insieme ogni giorno e portare avanti il sito bonelli.ed. Comincio io e poi mi correggerà Alberto. No, dunque, allora diciamo che il sito, prima di tutto, è la voce ufficiale della casa editrice, quindi questo lo dico ai lettori che spesso per passione e voglia cercano informazioni sui loro personaggi, sui loro eroi, un po' dappertutto, ma sappiano che poi le notizie certe le possono avere solo seguendo il sito e poi di conseguenza anche i nostri social. Cos'è il sito? È anche una specie di hub, diciamo di centro, che fa un po'… noi siamo quelli che ci interfacciamo un po' con tutte le realtà della casa editrice, dalla redazione vera e propria, gli autori, gli autori che sono in redazione, quelli che lavorano dalle loro case, al magazzino, per esempio, anche agli stampatori, anche alla parte di distribuzione dei libri e dei fumetti, diciamo, cioè che avviene, scusate, in libreria e in fumetteria. Questo perché appunto dobbiamo avere notizie fresche da dare tutti i giorni. E in più ci occupiamo anche della parte dello shop, quindi della gestione, diciamo, dello shop, anche qui in concerto ovviamente direttamente con il nostro magazzino, che è quello poi fisicamente, che ha gli albi o i libri, eccetera, e merchandising tutto, e che poi lo prende, lo spedisce, lo distribuisce ai lettori e ai negozi interessati, insomma. Vediamo un po' se Alberto può integrare questa breve descrizione. Beh, in realtà quello che c'è da aggiungere è che noi non ci rapportiamo solo ed esclusivamente con soggetti interni alla casa editrice, perché per quanto riguarda la creazione di news riguardanti eventi, mostre, fiere, ci relazioniamo direttamente con gli organizzatori, passando molto spesso attraverso il nostro valente ufficio stampa, qui rappresentato dal buon Giovanni Boninsegni. Parlando degli eventi non così importanti come sono le fiere grosse a cui partecipa la casa editrice in prima persona, va detto che purtroppo non sempre ci troviamo a poter seguire l'iter di cui abbiamo parlato. Per cui c'è anche un discorso di, diciamo, di selezione delle news che noi possiamo dare come casa editrice, perché giustamente come Davide diceva all'inizio, il sito è la voce ufficiale della casa editrice. Quindi non tutto ciò che riguarda i nostri personaggi, i nostri fumetti è ufficialmente presentato e realizzato con il patrocinio della casa editrice. Per cui può darsi che esistano delle piccole realtà in giro per l'Italia che noi non pubblicizziamo e di cui magari non sappiamo mai neanche niente. Per quanto riguarda, diciamo, come stavamo dicendo, l'organizzazione sui grossi eventi, c'è da dire che noi, è sicuramente il periodo dell'anno nel quale, i periodi dell'anno nei quali siamo più sotto pressione, come tutta la casa editrice ovviamente, noi arriviamo un po' a ridosso, cioè il nostro lavoro è un po' a ridosso, perché tutto il resto della casa editrice, soprattutto chi come Giovanni e tutte le altre figure professionali si occupano di imbastire tutta la programmazione, ovviamente partono con molti mesi d'anticipo. Noi essendo, lo ripeto per l'ennesima volta, la voce ufficiale, è chiaro che arriviamo in un secondo momento, quando i giochi si sono già piuttosto delineati e quindi è il momento di cominciare a comunicare a tutti dove troveranno i loro beniamini, cosa porteremo soprattutto nelle varie fiere, gli incontri e tutto il resto. E qui, come dicevo prima, comincia quel grande scambio di informazioni che vorrei dire più che quotidiano è veramente, come dire, di minuto in minuto con tutti i nostri uffici marketing, l'ufficio stampa per l'appunto, i social media manager, eccetera, eccetera, in modo da imbastire tutta la comunicazione e fare sì che i lettori e gli appassionati sappiano esattamente cosa troveranno, quando, dove… Mi viene da dire anche per, come dire, mettere delle luce in delle zone d'ombra che noi abbiamo, non giriamoci intorno, che per capire la massa di lavoro che voi seguite quotidiana c'è da tener conto di un'altra variabile, che gli appuntamenti delle fiere tengono conto di artisti notevoli, nostri iniziatori e disegnatori. Questi stessi artisti lavorano su molte realtà e quindi hanno delle agende molto importanti. Questo significa che il lavoro di fino a cui arriviamo per pesellare o quindi per determinare qual è l'appuntamento, come tempo, luogo e preciso, è una macchina lavorativa che continua fino al giorno della fiera. Anche perché poi noi oltretutto ci occupiamo anche della proposito di eventi, di fiere, ma non solo, ci occupiamo anche delle riprese, delle varie conferenze, eccetera, che quindi richiedono una presenza fisica naturalmente e poi tutto un lavoro di montaggio, che naturalmente non è un montaggio di fino come può essere quello di un prodotto audiovisivo destinato al cinema, eccetera, eccetera, ma comunque richiede anche quello poi di essere lavorato, di essere condiviso sui nostri canali da YouTube, Instagram, Facebook, eccetera, tutti con formati diversi. Per cui insomma c'è un po' la fase di preparazione e poi la fase anche sul campo che seguiamo sempre noi due, insomma, dividendoci naturalmente i compiti. Cioè io sto a, in genere, per esempio a Lucca, io sto nella nostra bella postazione con una birra in mano e Alberto fa il lavoro, questo è un po'... ma forse non dovevo dirlo, accidenti questo. Questo succede perché Davide lavora in casa editrice da svariati anni, io sono il penultimo arrivato e quindi i lavori pesanti toccano a me. No, purtroppo quello che succede con le fiere grosse come Lucca o come Cartoon Mix, che è l'altra che seguiamo in prima persona io e Davide tra l'altro proprio perché ci andiamo, è che in effetti fino al, come diceva Giovanni, fino all'ultimo momento succede qualcosa. E non è che può succedere, succede e quindi dobbiamo adattare. Se sul fronte fiere non avete altro da aggiungere, volevo arrivare al tema del giornale Bonelli perché il giornale Bonelli è un appuntamento seguitissimo da quelli che sono i lettori perché diciamo che è una fotografia del medio, diciamo del medio termine di quello che avverrà sulle serie e questo comporta dietro la magia, comporta il lavoro di andare per ufficio a ufficio e relazionarsi con i curatori di testata. Sì, dunque, vabbè, del giornale, diciamo che la, come dire, la creazione delle schede degli albi e anche delle schede di quei prodotti che vanno solo in fumetteria per esempio oppure dei volumi è in effetti una parte importante del lavoro che facciamo ed è una parte importante perché appunto i lettori, come giustamente dicevi, piace molto poter vedere che strada prenderà il loro personaggio preferito o i loro personaggi preferiti ed è anche un po' esemplificativo del tipo di lavoro, dicevamo prima, che ci troviamo a fare noi di unione tra le tante figure che si trovano in casa editrice. Quindi sì, c'è tutto, è una cosa anche da un certo punto di vista è piuttosto piacevole perché si va veramente a cercare, diciamo così, tutte le varie, le tavole per esempio le possiamo trovare o direttamente dagli autori o più facilmente in redazione, però anche a seconda delle specificità dell'autore, per parlare di disegnatori in particolare, anche adesso abbiamo disegnatori che lavorano esclusivamente in digitale, quindi troviamo facilmente dei file che poi noi lavoriamo per le nostre esigenze tecniche, ma che di fatto sono già lì pronti, come troviamo ancora persone che invece utilizzano un tipo di tecnica tradizionale, quindi andiamo a prendere queste tavole e certe volte è molto bello anche vedere il tipo di tavola, perché abbiamo disegnatori che non ti aspetti che lavorano come dei miniaturisti, tutto ovviamente nel rapporto preciso di quello che è il formato Bonelli, ma magari con delle dimensioni della tavola veramente piccoline e un lavoro incredibilmente certosino e altri che lavorano con formati giganteschi, mi viene a pensare per esempio a Laura Zuccheri, quando abbiamo dovuto fare per il suo meraviglioso Texone le scansioni delle sue tavole da mettere appunto nella nostra scheda albo, abbiamo dovuto fare una sorta di ricostruzione di puzzle, perché lavora su un formato talmente gigantesco che non ci sta nei nostri scanner, quelli naturalmente non sono gli scanner che vengono utilizzati per poi stampare realmente, acquisire immagini e poi stamparle, sono quelli ottimi e precisi, però quelli che si possono trovare in una redazione che quindi hanno come formato massimo un po' più della 3 di fatto e quindi insomma anche lì abbiamo dovuto fare un tagliacucci, vedi delle tavole che hanno uno spessore di 5 mm perché c'è chi usa la BH, materiali di ogni tipo per metterci sopra e altri che invece sono di una pulizia estrema perché hanno una linea chiara insomma, tutto questo tipo di cose e questo è anche interessante, oltre, magari sul momento poi ci fa anche dire mannaggia chi usa sto formato, mannaggia chi usa ancora le strisce che poi vanno montate a tre perché per volta per fare la pagina, ma poi in realtà quando vedi il risultato ti stacchi un momento da quello che è il tuo lavoro più terra terra e più bieco di acquisizione del materiale e lasci andare un po' il cuore diciamo quindi quando ti trovi proprio a maneggiare i disegni, le illustrazioni dei tanti autori e dei loro mille stili devo dire che è una cosa veramente molto interessante e credo che questa sia anche la forza penso di tutte le case editrici ma direi in particolare della nostra che è quella che conosco di più e quindi che ovviamente ognuno riesce comunque a esprimere la sua personalità nel lavoro che fa e quindi ecco questo momento di raccolta passa anche attraverso appunto il conoscere a chi dovrai chiedere le cose e sapere come farlo. Ora mi zittisco e lascio parlare Alberto però altrimenti dico tutto io. No in realtà ci sarebbero un paio di cose da aggiungere ma non lo farò perché abbiamo potuto fare un video di fare una registrazione di cinque minuti siamo già a mezz'ora. Oh dai Alberto approfitta dai! Non aggiungo niente su questo argomento specifico. Faccio un altro passo indietro e continuiamo comunque a parlare del giornale di Sergio Bonelli che tu Giovanni hai giustamente definito un appuntamento molto atteso dai nostri lettori. E' verissimo perché in effetti il giorno in cui lo pubblichiamo che è l'ultimo giorno del mese o il primo di ogni due mesi a seconda di com'è il calendario noi vediamo un notevole aumento delle visite al nostro sito perché la gente arriva e vuole vedere le anticipazioni del prossimo trimestre. In realtà però questa cosa si è andata un po' a scontrare con l'andare del tempo con il fatto che noi adesso abbiamo fondamentalmente un catalogo mensile che anticipa di due mesi le uscite in libreria, libreria e fumetteria e poi anche i cataloghi dei singoli distributori e quindi i cataloghi librari hanno già anticipato uno dei due mesi che compongono il nostro giornale di Sergio Bonelli online. Quindi vuol dire che nel giornale di maggio e giugno in realtà la maggior parte, quasi tutti gli albi che compongono il calendario delle uscite di maggio, i lettori li hanno già viste. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'anticipazione con il tempo la sua importanza, l'importanza del giornale è andata un po' calando. Però invece l'entusiasmo, l'interesse dei lettori è rimasto tale. C'è anche da dire, e mi entro un attimo perché tutto questo è assolutamente corretto, c'è anche da dire che sul sito però per evidenti motivi di tempistiche quando viene imbastito il preview abbiamo sicuramente, come dire, il lettore può già vedere quelli che sono gli albi che usciranno e anche avere un'idea di quello che ci sarà all'interno perché c'è una descrizione naturalmente, però in più sul sito possono trovare due, tre, quattro, anche di più dipende, tavole in anteprima e questo è sicuramente una cosa che fa piacere, nonché le copertine che quasi sempre sono definitive, mentre ovviamente lavorando con molto anticipo il preview, inevitabilmente è difficile che abbia delle copertine definitive. Per il resto però sì, c'è la novità di dire, accidenti, guarda che bello, ci sarà una nuova collana, ci sarà una nuova miniserie, quello ormai lo vedi direttamente dal preview e non più dal giornale Sergio Bonelli. C'è da dire questo riguardo il preview, che incide anche sul nostro calendario delle pubblicazioni di notizie, non solo sul giornale. Questo perché quando debutta una serie nuova, ci impegniamo per far sì che sia il sito a dare per primo la notizia, di solito non ci riusciamo perché nel momento in cui il preview esce non abbiamo sufficienti materiali a disposizione definitivi per fare la notizia. Per cui ogni tanto ci facciamo scappare qualcosa, ogni tanto invece tutta la casa editrice in realtà si impegna per far sì che una notizia esca prima dalle pagine ufficiali del sito e solo dopo venga ribattuta anche dal preview. Due casi contrapposti sono l'esordio, il primo numero della nuova miniserie da fumetteria che è la guerra del buio, che è uscita prima, la cognotizia è uscita prima nel preview e solo dopo siamo riusciti a darla sul sito, e invece il cambio di formato del Maxi Dilan Dog, che è diventato Old Boy, che abbiamo invece dato prima sul sito rimandando di qualche giorno l'uscita del preview in modo che facessimo in tempo a fare la notizia. Su questo mi ricollego, dico una cosa brevissima, cioè assolutamente giusto e perfetto. Si diceva prima, noi certe volte ci troviamo un po' in difficoltà magari a dare una notizia quando è troppo presto e troppo fresca e tendenzialmente non vogliamo farlo perché ci mancano appunto, ci manca il materiale. Questa è una cosa che noto, si fa un po' fatica a capire, cioè noi siamo, noi inteso come sito della casa editrice Sergio Bonelli, editore, siamo un po' un magazine. Quando dobbiamo dare una notizia, vogliamo che sia una notizia, poi non sempre possiamo fare qualcosa di super esaustivo, però vogliamo mostrare qualcosa e vogliamo dire qualcosa di certo. proprio con Che la guerra del buio di cui parlava Alberto Pocanzi, sul preview c'è comunque un'introduzione, però ovviamente non ci sono pagine, non c'è per esempio la copertina che è un punto molto importante su quale si vuole puntare per questa serie, una bellissima copertina di Massimo Dall'Oglio che abbiamo mostrato noi. Ecco, questa è una notizia, cioè noi la mettiamo sul sito e diamo qualcosa ai lettori su quali pensare, su quale sognare, sulla quale sognare. Non ci basta dire c'è quello o c'è quell'altro, non è un tipo di comunicazione alla nostra come quella che ci può essere su Facebook o su altri social dove basta dire le due righe perché l'importante è averlo detto prima o avere detto che c'è, mettere la bandierina diciamo. Noi dobbiamo dare un'informazione perché secondo noi i lettori hanno bisogno di qualcosa di concreto. Ora, io ringrazio Davide Pettani e Alberto Cassani per essersi prestati a questa intervista che mi fa guadagnare solo altri punti affetto da loro e naturalmente sono molto contento personalmente perché in questo momento così delicato avete voci anche voi che magari per comprensione generale e comune delle persone magari non sanno nello specifico cosa fare. Quindi ben venga che vengano riportate le tante voci che formano la casa di Cristo. Grazie Giovanni e un saluto a tutti i nostri lettori e ascoltatori in questo momento. Grazie Giovanni, ciao a tutti.